Ben trovati, ben trovati da Tu per Tu, lo spazio dedicato ai consiglieri provinciali del Consesso Trentino. Allora abbiamo Michele Dallapicola, consigliere, non so se capogruppo, consigliere del PAT, visto la decisione di Ugo Rossi di passare al gruppo misto, lei voleva parlare di turismo, ma naturalmente non possiamo non parlare, anche se brevemente, di questa notizia. Cosa sta succedendo? Ben trovati ai telespettatori e anche a lei, abbiamo appreso in questi giorni di questa notizia, di questa decisione del nostro collega, di percorrere la strada che manca al termine di questo mandato politico al di fuori del partito. Per come conosco e per come ho dialogato con il mio collega, sarà sicuramente un percorso parallelo e non certo in antitesi al PAT e dunque, a mio modo di vedere, eventualmente di rinforzo o comunque di posizioni che attualmente nel partito sembrano predominare. Di certo il partito ha i propri organi, le sezioni, il consiglio, il congresso, che faranno le loro valutazioni e si deciderà poi tutti insieme alla luce anche di una miglior definizione del quadro nazionale e successivamente locale che allo stato dell'arte sembrano piuttosto confusi. L'unica cosa certa che noi avvertiamo è sicuramente un grande disagio da parte della popolazione trentina verso questo governo provinciale. Chi vi parla ovviamente è un consigliere di opposizione che ha il ruolo di fare proposte come sarà tra pochissimo parlando del turismo ma anche di critica. Ciò che avvertiamo è davvero la difficoltà al sentirsi fiduciosi che questo governo abbia tutte le capacità e tutto il know-how necessario per gestire una situazione che onestamente era difficilissima da gestire comunque e per chiunque a loro. Ecco questo le fa onore, era comunque una situazione difficile da gestire, come difficile da gestire è il turismo. In Trentino sappiamo che vale circa un miliardo, 18% del PIL sono numeri importantissimi perché coinvolgono tutta una filiera, filiera dei prodotti tipici, salvaguardia dell'ambiente, lei è stato assessore al turismo, cosa non è andato giù della riforma failoni? Diciamo questo, innanzitutto non si tratta della riforma failoni ma è la riforma UNAT, è l'Unione che ha dettato questa riforma e lo posso testimoniare poiché ciò che è scritto nella riforma è quello che i rappresentanti di UNAT per cinque anni avevano detto a me di pretendere in termini di riforma. Che una riforma ci volesse era importante, norme europee severe che stabiliscono percentuali di finanziamento diverse dal passato, ma io dico in questo periodo di crisi dove l'Europa è larga di manica e permette di superare le norme del de minimis, esattamente come è stato fatto per l'agricoltura, in questo periodo di crisi c'era bisogno di sovvertire il sistema del finanziamento visto che probabilmente chiedendolo avresti potuto ottenere una deroga e in questo periodo di crisi e di disastro. Era necessario costringere i rappresentanti nelle APT a litigare per posti in consiglio, posizioni, ruoli? Probabilmente riforma sì, shiftata di qualche tempo, fuori della crisi, a bocce ferme, quando il problema principale non è capire se c'è ancora un turismo. Chi non è stato ascoltato secondo lei? Io ho fatto lo stesso giro che ha fatto il mio successore e l'ho fatto per cinque anni. Avevo predisposto una bozza di turismo ma avevamo anche altri fatti da riformare e dunque l'aspetto relativo alle APT lo avevamo lasciato per ultimo e il tempo amministrativo non ci è bastato per completare il quadro. È il motivo principale per il quale abbiamo comunque considerato che questa riforma può avere degli aspetti interessanti, ma ciò che ha detto il territorio è che il coordinamento delle APT si sarebbe dovuto sostanziare in un coordinamento capace di ragionare a questo punto non per singola area. Ecco qui che riemerge il mantra atavico pronunciato con insistenza da UNAT, le APT sono troppe, ne bastano quattro. Quante sono le APT? Guarda caso quattro. Che valenza hanno? Valenza geografica e che aree vanno ad individuare? Quelle che una mi chiedeva di individuare. Dunque l'esecuzione puntuale specifica di questo indirizzo ha costruito frazionando il territorio quattro zone omogenee che a questo punto difficilmente collaboreranno tra loro. Che cosa si chiedeva? Visto che il territorio è comunque diviso in ambiti, le ex APT, visto che c'è bisogno di collaborazione, non si può pensare che l'ente intermedio che lavora tra le APT e la Trentino Marketing, anziché implementare gli aspetti di divisione ulteriore di zona, non tratta invece i prodotti? In particolare questo ragionamento è stato infatti apprezzato da ASAT, apprezzato da Confindustria, dalle associazioni di categoria. La bicicletta appartiene più a una zona, appartiene più all'altra. Lo sci si esegue solo in un luogo piuttosto che in un altro. L'enogastronomia appartiene solo alla parte sud del Trentino, per citare un luogo dove c'è grande espressione. Quindi io dico il ragionamento di pensare che le ATA, così come è stato proposto nel disegno di legge che abbiamo lasciato come PAT, come eredità proposto a questo assessore e da questa maggioranza rifiutato. Un disegno di legge tuttavia adottato in qualche maniera da ASAT e da Confindustria, ad esempio, che erano le stesse che lo avevano suggerito al sottoscritto, disattese, voleva provare a confermare. Non è successo niente di tutto questo e oggi ci troviamo con queste macerie di consigli d'amministrazione che litigano per il numero di posti in CDA, con i nostri operatori turistici sfiniti dalla crisi e tra l'altro con davanti a noi lo spettro che fra poco tempo, esattamente come ha chiesto questa giunta, non dimentichiamocelo, dentro nella legge ha proposto anche un aumento della tassa di soggiorno. Abbiamo esaurito il tempo, si dispiace, con il consigliere Dallapicola perché naturalmente l'argomento è attualissimo, avremo tempo di tornarci sopra. Noi ringraziamo il capogruppo consigliere, lo deciderete nei prossimi giorni e ci rivediamo con un altro ospite. Grazie a tutti!